Sì, sono 6 milioni per tre annualità, perché tre saranno le finestre che a decorrere dal corrente anno andremo ad aprire per migliorare le competenze dei cittadini calabresi, per elevare il grado di istruzione e l'alta formazione, quindi andremo a finanziare master di primo e di secondo livello. Andremo a camminare con le università calabresi erogando fino a 10 mila euro per l'accesso a master di primo e secondo livello, accompagnandoli con una borsa di studio fino ad un massimo di 6 mila euro che andrà a prevedere il vitto e l'alloggio per i meno abbienti. Per cui è una regione, l'avevamo detto, che punta molto sul capitale umano, che punta molto sulle opportunità, opportunità che poi siano di inserimento e reinserimento lavorativo. A tal fine andremo ad aprire una manifestazione di interesse che andrà ad interessare tutte le aziende calabresi che vogliano ospitare i ragazzi che frequentano i master per effettuare degli stage, quindi il tirocini all'interno di queste aziende con l'ospicio che poi vadano ad assumere gli stessi studenti. Per cui l'avevamo già previsto nel nostro piano di azione, previsto dal Dipartimento di Istruzione, che avremmo operato proprio per raggiungere quegli obiettivi legati anche al lavoro, perché è un lavoro in continua e rapida evoluzione, che richiede delle competenze sempre più elevate. E quindi noi andiamo ad essere una delle prime regioni che va a puntare su una formazione, stanziando integralmente i master, che sappiamo avere un costo non indifferente. Quali sono secondo voi i settori in cui si può colmare di più questo mismatch? E' una domanda per il lavoro attraverso la formazione. Indubbiamente i settori scientifici, quindi parliamo dall'economia, parliamo medicina, ma puntiamo anche sull'archeologia, perché sappiamo che è una terra ricca di siti culturali, quindi andiamo a dare opportunità di finanziamento anche ai settori che poi siano fortemente curvati sul nostro territorio, perché l'obiettivo è attraverso la formazione elevare quello che è il tessuto produttivo calabrese. Diciamo che la frequenza ai master non è preclusa ai ragazzi soltanto per gli Atenei calabresi, perché i ragazzi con 10.000 euro possono comunque frequentare i master nel territorio italiano, quindi non precludiamo, perché è una formazione che deve essere di qualità e deve essere di scelta. Ovviamente noi diamo una premialità laddove questa scelta ricada nel tessuto calabrese e quindi comprenda i nostri Atenei, con cui collaboreremo affinché ci sia appunto una formazione, perché la predisposizione comunque dei master è a carico degli Atenei calabresi. E quindi noi andremo comunque a collaborare con tutti quanti i rettori perché ci sia questa corrispondenza con quelle che sono le esigenze richieste dal mercato del lavoro calabrese e quindi dalle nostre aziende. Una misura che coinvolge i tre Atenei calabresi, quindi sicuramente è utile, importante. È un'ottima notizia per il sistema universitario calabrese. Devo dire grazie all'assessore, alla professoressa Princi per questa iniziativa, che risponde alle esigenze dei nostri giovani laureati, molti dei quali hanno obiettivamente delle difficoltà ad avvicinarsi ai master, anche semplicemente per ragioni economiche. Quindi ancora una volta la Regione è stata molto rapida e molto attenta a queste richieste e soprattutto l'ha fatto con uno specifico obiettivo, cioè quello di cercare di finanziare delle iniziative di master che abbiano poi uno sbocco professionale. Quindi questo è molto importante in una Regione come la nostra, nella quale, come voi ben sapete, le nostre migliori intelligenze tendono poi ad abbandonare il nostro territorio proprio perché mancano queste opportunità. Quindi la possibilità di frequentare in Regione una scuola di alta formazione quale è appunto quella di un master universitario e di trovare da subito un legame con le aziende è un valore aggiunto straordinario. Quindi sono molto molto soddisfatto e molto felice di questa iniziativa. Qual è adesso, al momento, diciamo, una decisione ai master, almeno quelli che riguardano, che attengono all'università che lei dirige, insomma, cioè i studenti riescono effettivamente in che modo, in che modalità? Sì, credo che non avremo problemi perché la nostra offerta formativa è stata da poco pubblicata, quindi fra poco, fra qualche settimana, i nostri laureati potranno accedere a questi master e quindi ovviamente una quota significativa perché come voi avete visto si tratta di due milioni all'anno per tre anni per i tre atenei potrà essere destinata per appunto sostenere questi nostri studenti. Possiamo fare qualche esempio di qualche master di alta formazione che ha già un rapporto con le aziende, prevede degli sbocchi lavorativi importanti? Sì, noi abbiamo diverse offerte a questo proposito, alcune riguardano aziende, come lei sa il core business del nostro ateneo è quello biomedico, quindi abbiamo una serie di contatti con delle aziende, con degli spin-off che sono recentemente nati anche dal nostro ateneo, che sono molto interessati a ricevere gli studenti, quindi questa è veramente una situazione molto virtuosa in cui questi ragazzi che hanno fatto il dottorato, molti di questi hanno fatto il dottorato, possono poi avviarsi al master sapendo già che c'è un'azienda pronti ad accoglierli. Grazie.